Emma Marrone e le dolci parole per la conduttrice di Uomini e Donne.Maria De Filippi oltre ad essere un'ottima professionista è anche una donna con un grane cuore A saperlo sono le numerose persone che stanno al suo fianco, ma anche coloro che sono diventati famosi grazie a lei Tra i tanti nati da Uomini e Donne e Amici, una in particolare, ha conquistato il cuore della moglie di Maurizio Costanzo Stiamo parlando di Emma Marrone.Emma Marrone a domenica in elogia Maria De Filippi Ospite a domenica in di Mara Venier, Emma Marrone ha parlato della sua carriera artistica, della vita sentimentale ma anche di Maria De Filippi Per quest'ultima all'artista Salentina ha speso delle parole davvero speciali.Maria dopo dieci anni mi sta ancora a fianco Condivide le mie scelte e le rispetta Mi vuole bene davvero virgola, ha rivelato l'ex fidanzata di Stefano De Martino su Rai 1 La ragazza ha rivelato anche che Maria non abbandona mai i suoi allievi nati ad amici, a cui dà tantissime opportunità A quanto pare Emma può contare sull'appoggio giornaliero di qui e in Mari, infatti le due si sento al telefono molto spesso Inoltre, la cantante pugliese ha affermato di essere molto felice e di essere arrivata fino alla fine nel talent show di Canale 5 Per questo motivo ha dato un consiglio a tutti i giovani, che credono tanto nelle loro potenzialità Emma ha detto di andare fino in fondo perché prima o poi arriveranno i risultati .